Anche per Sarzana da questa settimana è incominciata la cosiddetta fase 2, quella della graduale ripartenza. Andiamo a scoprire per le vie del centro come un tessuto commerciale fatto di artigianalità, di sofisticazione, sta reagendo per tentare una difficile ripartenza. Questo è un made in Sarzana che abbiamo avuto l'idea di rilanciare con un laboratorio di artigiani che sono proprio qui sulla via. Loro sono due ragazze bravissime che hanno avuto l'idea di mettere a punto questa mascherina un po' più stretta, un po' più modaiola, che abbraccia un po' le misure del viso e allo stesso tempo l'interno è fatto con un cotone organico nel quale si può inserire poi il filtro intercambiabile in TNT che permette di riacquistarlo facilmente in farmacia. Qui ci sono articoli artigianali, la maggior parte è made in Italy, voi lavorate tanto l'estate anche con i turisti. C'è preoccupazione per l'estate che verrà? Sì, c'è preoccupazione. Diciamo che noi siamo abituati a guardare sempre entrambi i lati della medaglia. Per fortuna, con ottimismo, speriamo di poter avere comunque quello che è il supporto del turismo italiano e quindi di poter riavere comunque da giugno in poi l'estate aperta per avere l'accesso ai clienti nostri italiani che arrivano dalle parti vicine. Maggio è tradizionalmente il mese delle cerimonie, delle comunioni. Qui un negozio per bambini, purtroppo a causa delle norme anti-assembramento non si possono ottenere le feste, quindi è un settore in sofferenza. Sì, noi fortunatamente qualcosa avevamo già iniziato a vendere a febbraio, però è stato poi un problema per i nostri clienti perché le cerimonie ovviamente sono state tutte annullate. Speriamo vivamente che si riusciranno a recuperare a settembre-ottobre, come qualcuno mi dica, e che non passino al prossimo anno perché sarà un problema anche per noi, sia con l'invenduto che abbiamo, perché ne abbiamo invenduto, perché normalmente la cerimonia si vendeva fino a giugno, considerando che ci sono poi i matrimoni di agosto-settembre-ottobre. È un grosso problema. Lei non è solo un'autorità nel campo della ristorazione che è Sarzana, ma è anche una persona che è propulsiva per la vita culturale della città. L'estate si avvicina, Sarzana ha sempre avuto negli ultimi anni anche uno sguardo internazionale cosmopolita. Certo, con grande dolore quest'anno abbiamo dovuto, tra virgolette, rinunciare, o quantomeno bypassare in quasi in toto la nostra grande manifestazione per i giovani, Sarzana Opera Festival, dove naturalmente le piazze, i teatri, i palcoscenici sono il tre per due, quindi non si può fare assembramento, non si può fare pubblico insieme, quindi questa manifestazione è stata praticamente bypassata e vedremo se in fine agosto, a settembre, riusciamo ad accendere anche di questo una presenza che dica che i ragazzi comunque a Sarzana ci tengono.